Cittadini e con cittadini amici e nemici, nascosti e trattando i gesti ignobili dalla loro generazione che prevengono. Per cui innanzitutto raccolgo quest'occasione di questa giornata, diciamo di tutto il mondo intero, l'augurio dello scambio della Palma, in questo momento non avendo la disponibilità di versarvi un ranetto di Palma. Questa è la voce di Michele Cerone, consigliere comunale negli anni Novanta, durante un comizio tenuto nella piazza di Melfi, un comune della Basilicata o delle Marche? Della Basilicata. Della Basilicata, esatto!